Il carattere intangibile della vita umana è stato ribadito dal Papa nel discorso al nuovo ambasciatore francese presso la Santa Sede, il signor Stanislav Lefebvre de Laboulaye. Benedetto XVI ha notato che quest'anno in Francia sarà segnato dal dibattito in Parlamento sui temi della bioetica e su questi argomenti la Chiesa ribadisce la sua posizione a favore della vita umana. Per quanto riguarda la situazione economica e sociale, Benedetto XVI ha sottolineato che vanno apprezzate tutte le misure governative che favoriscono la solidarietà e la coesione tra i vari settori del Paese. La crisi globale che viviamo è un'opportunità per mettere a punto nuovi meccanismi finanziari per un'economia a misura d'uomo.